Come dice un mio vecchio allenatore, per vedere un atleta bisogna valutarlo 90 minuti per 40 partite. Allora lì si inizia a vedere un campione, un giocatore di grandissime qualità. Di periodi difficili di solito ne arrivano tanti. Si superano con la tranquillità, si superano con i sacrifici, con il lavoro e soprattutto con lo spirito di squadra, perché tante volte magari uno pensa di poter risolvere le cose da solo, però se non l'aiuto dei compagni è difficile farlo.